Benvenuti in condominio. Il problema del caro Bollette riguarda un po' tutti e non di meno anche i condomini. Stasera affronteremo l'argomento anche in base alle normative e saremo anche molto prodighi per quanto riguarda suggerimenti e consigli per un risparmio energetico in tutti i sensi e anche del gas. E lo faremo attraverso i nostri ospiti che io vi presento immediatamente. Benvenuta dottoressa Paola Fantoni. Grazie, buonasera a tutti. È un gradito ritorno, lei è anche responsabile del mercato energetico e del gas per conto di camera condominiale. E poi benvenuto anche lei, dottor Gianluca Carullo, che è il responsabile scientifico di camera condominiale e nonché è il padrone di casa di questa stupenda trasmissione. Allora dottoressa facciamo un escursus di quello che è la situazione, non dico mondiale, ma quasi, limitiamoci al nostro paese, sia per quanto riguarda il mercato energetico che quello del gas. Sì, allora per quanto riguarda il mercato dell'energia gli ultimi 18 mesi hanno subito un'evoluzione catastrofica, nel senso che siamo passati da valori di PUN, che è il prezzo unico nazionale sotto i 100 euro a megawattora, con valori a 600 euro per quanto riguarda il mese di agosto. Quindi un incremento di 5-6 volte tanto rispetto il prezzo di due anni fa. Tutto è iniziato ad aprile del 2021 ed è stato un incremento costante dei costi fino ad arrivare appunto al massimo che abbiamo registrato ad agosto, causa anche il caldo e la siccità. Per quanto riguarda il gas vale le stesse misure, nel senso che siamo passati da un prezzo che era sotto i 30 centesimi a metro cubo ad arrivare a superare quasi i 3 euro a metro cubo. Per cui con dei mesi che hanno registrato anche 10 volte il valore di due anni fa. Questi motivi li sappiamo perché ormai tutti i media ne parlano. Oggi il mercato, il mese di ottobre, sembra diminuito perché abbiamo dei valori che sono quasi la metà del mese di agosto che ci fanno ben sperare a un po' di stabilità. Questa stabilità cosa comporta in termini di benefici? Beh, comporta di riuscire ad avere delle fatture relative alle forniture più costanti perché in questi mesi soprattutto le aziende hanno subito dei grossi incrementi che chiaramente vanno a mangiare marginalità e mettono in difficoltà il sistema. E questo si ripercuote anche per quanto riguarda il mercato delle tutele? Allora, il mercato della tutela bisogna fare una precisazione. Il mercato di tutela del gas è stato un valore che per gli ultimi 18 mesi è stato un po' più costante. Precisiamo che il mercato di tutela, per quanto riguarda il gas, ha un prezzo variabile che viene fissato trimestralmente, per cui è chiaro che è stato meno volatile del PSV che invece è il valore della piattaforma di scambio virtuale del gas italiano. Dal primo di ottobre, per cui da adesso, il prezzo del gas sulla tutela sarà valorizzato mensilmente sulla borsa, sulla piattaforma virtuale, per cui i due mercati saranno identici. Per quanto riguarda l'energia elettrica, il mercato di tutela è terminato l'anno scorso per i contatori maggiori di 16,50 kW e terminerà al 31,12 per quanto riguarda tutto il segmento domestico e contatori inferiori ai 16,50 kW. Qual è la situazione dei condomini in questo momento e soprattutto qual è la previsione per la stagione termica? Diciamo che la situazione attuale si va ad innescare in una situazione già non rosa dal punto di vista finanziario dei condomini. La posizione finanziaria di liquidità oggi vive un momento di crisi, perché determinati condomini fanno fatica a tenere una costanza nel versamento delle rate e la previsione appunto che si citava di una stagione termica a rialzo non può che alzare la sticella del livello d'allarme. Come amministratori, come associazione di amministratori, noi grazie a dottoressa Fantoni stiamo facendo diversi incontri di sensibilizzazione all'amministratore che a sua volta dovrà sensibilizzare i suoi condomini. Abbiamo fatto diversi circolari con le quali abbiamo informato gli amministratori appunto di iniziare a notiziare i propri condomini che la stagione attuale potrebbe non essere in linea con quella precedente. Abbiamo magari delle situazioni in cui il bilancio del condominio è stato, il bilancio preventivo, è stato approvato prima che esplodesse a livello di costi il mercato energetico e quindi potrebbe non essere più idoneo a rispondere a quella che è la necessità finanziaria del condominio. Pertanto l'amministratore potrebbe trovarsi il suo malgrado nella situazione di dover emettere delle rate straordinarie non previste a preventivo anche a breve scadenza e questo per prevenire un distacco da parte del gestore dell'energia elettrica o del gas. E questo i condomini sono a conoscenza perché effettivamente anche loro prevedono la situazione che sarà un pochino di emergenza. Dottoressa Fantoni, quali sono le indicazioni del piano nazionale per quanto riguarda il contenimento dei costi? Allora il piano nazionale prevede la diminuzione delle ore di accensione e dei riscaldamenti per cui siamo passati da 14 ore a 13 ore e la diminuzione di un grado per cui è indicato nella nostra fascia 19 gradi con una tolleranza di 2 gradi e 17 gradi per quanto riguarda invece gli ambienti artigianali e industriali. Questo è molto interessante. Tra l'altro il dottor Carullo, per quanto riguarda invece le azioni che deve in qualche modo suggerire a tutti i condomini da parte dell'amministratore anche perché è una delle sue responsabilità e anche uno dei suoi obiettivi è anche quello di portare i condomini a un'educazione e risparmio ma allo stesso tempo che fa risparmio a tutto il condominio. Certo, allora sicuramente sono secondo me due i livelli che bisogna tenere da conto. Uno è quello dell'amministratore che deve avere una rendicontazione periodica molto più fitta per non correre il rischio di perdere il polso della situazione. Secondariamente lo stesso amministratore, sempre noi come associazione ci siamo mossi nel fare delle circolari, quindi lo stesso amministratore deve avvisare i propri condomini dicendo quali sono delle best practice per ridurre i consumi, quindi valutare le bollette se ci sono delle tariffe su fasce orarie e quindi utilizzare gli elettrodomestici, quelli magari che hanno un dispendio energetico maggiore. Nel fuori onda si parlava con l'ottoressa Fantoni di quelli con resistenza, di farli lavorare, diciamo così, nelle fasce orarie dove il vantaggio economico sarebbe maggiore. Ecco, proseguendo su questa linea, quella nel suggerire anche il come utilizzare sia gli elettrodomestici ma anche un po' modificare il nostro stile di vita all'interno della nostra abitazione, cosa potremmo dire in più, dottoressa Fantoni? Sostanzialmente intanto bisogna fare un passaggio, l'utente deve essere consapevole del contratto che è in essere, per cui se prevede un costo monorario per cui uguale per tutte le ore del giorno della notte o se prevede un contratto a fasce. Se prevedesse un contratto a fasce vale la pena, come diceva il dottor Carullo, consumare nelle fasce notturne che sono dalle 23 alle 7 la fascia in cui l'energia costa meno. Poi, come dire, valgono sempre i consigli di buon padre di famiglia, per cui cercare di evitare di tenere accese soprattutto gli elettrodomestici che consumano maggiormente inutilmente. E poi il buonsenso la fa sempre la padrona, no? Bene, allora siamo in chiusura di questa puntata di Benvenuti in condominio. Dottor Carullo, allora facciamo un po' la sintesi e soprattutto poi diciamo in che modo i nostri telespettatori possono avvicinarsi a voi per approfondire l'argomento. Se volessimo fare una sintesi della puntata di questa sera sicuramente dobbiamo essere molto attenti a quelli che sono i giorni e i mesi che ci aspettano. Dobbiamo tenere saldo il timone senza farci prendere da inutili allarmismi, però con grande attenzione. Chiunque volesse approfondire la propria posizione o quella del proprio condominio può scrivere a info.chiocciolacamera.com.it, ovviamente interfacciandosi con noi del Centro Studi e con la dottoressa Fantoni. Bene, allora dottoressa Fantoni, grazie, dottor Carullo, grazie e per quanto riguarda i nostri telespettatori arrivederci alla prossima puntata di Benvenuti in condominio.